Cross the Border è l'intuizione che hanno avuto alcuni ragazzi di Pescara nel trovare un nesso tra Bruce Springsteen e Flannery O'Connor. Bruce Springsteen lo conosciamo tutti, la rocker della New Jersey, Flannery O'Connor una delle più importanti scrittrici americane. Ebbene tra loro c'è un legame, uno strano legame fatto di contenuti in ciò che Springsteen scriveva nelle sue canzoni e la O'Connor nei suoi romanzi. Li abbiamo uniti, abbiamo creato questo recital originalissimo, verrà da Livorno la più importante tribute band di Bruce Springsteen in Italia, Blood Brothers. Ci saranno degli attori che reciteranno dei passi delle canzoni di Springsteen e della O'Connor. E poi dei fumetti animati realizzati da fumettisti pescaresi molto bravi. In più nel pomeriggio una pesca di beneficenza perché poi il senso di questa manifestazione è soprattutto quello di raccogliere fondi a favore della casa del Piccolo Principe e della CEIS. Il Piccolo Principe in particolare è il servizio a cura e tutela dei minori vittime di abuso, maltrattamento e grave trascuratezza, che opera attraverso un centro clinico psicodiagnostico, terapeutico e due comunità educative, la Rosa e la Volpe, che ospitano complessivamente circa 20 minori in regime residenziale e altrettanti in regime semiresidenziale. L'evento del 19 maggio si inserisce proprio tra i progetti di fundraising del 2016 e speriamo che il ricavato possa andare a integrare quelle che sono le attività ludico-ricreative a favore dei minori.